ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo video in cui volevo informarvi che ho creato questa crew che si chiama fast and furious youtube come state leggendo se entrate in questa crew ragazzi questa è una crew per ps3 mi dispiace per tutti gli altri però io ho ps3 quindi ci accontentiamo di questa e se entrate in questa crew quando farò raduni anche che non l'avete attiva però almeno io avrò un modo di invitare tutte le persone che sono attive in questa crew quando farò dei raduni quando farò delle gare giornalmente io mi connetterò non so un'ora al giorno per dire dalle 5 alle 6 esempio e in quell'ora prenderò inviterò in una lobby privata le persone che comunque sono in questa crew e che avranno piacere di fare delle gare insieme a me magari anche gare vostre come avevo già anticipato in precedenza in maniera tale che io possa metterle su youtube no magari rendere famosa la vostra gara oppure stare solo che ne so una mezz'ora insieme un'ora insieme stare un po' medico insieme in una lobby e fare qualche missione qualche cazzata razzeggiare un po' insomma stare insieme ragazzi questa è una crew come vi ho già detto che ho creato l'ho creata apposta per voi apposta per legare apposta per fare qualche raduno quindi potete entrare liberamente l'iscrizione aperta a tutti e come ho già detto quando io mi troverò in sessione e avrò intenzione di fare una gara o un raduno andrò a cercare nella crew e niente ragazzi inviterò potrete anche mandarmi messaggi quindi iscrivetevi alla crew per questo video è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti ciao 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 ciao